Presidente Antonio Alcentro, non so se ce lo diciamo tra di noi, se poi questo diventerà voce, diventerà tam tam, però se sto tornando in me così si riprende, quando parlo di riprende perché vedendo Francesco che si è inventato quando mangiavano la pompa, tanto il pompa è vero, voi già siete più fortunati perché il vetto si identica di per me che altri non solo di, diciamo insomma, qualcuno lavorato con l'esco, qualcuno da compasso, insomma ci divertivamo abbastanza, questo poi è tornato con i nomi dell'acqua, con i nomi, insomma ripeto c'erano tanti nomi all'ora, poi è diventato famoso il calcetto, se oggi ritorni, ma anche perché l'hai pensato, l'hai venuto, l'hai testato, sai come poi dovrebbe essere uno che gioca e uno che vince, sta parlando, insomma quando uno non viene in scomponente, e questo prima che sia una delle cose più belle, più importanti, quest'anno è un'altra soddisfazione professionale, vedete, riferisco a così tanto, hai avuto una cosa più importante, una mancanza nella tua famiglia, come vi ho detto prima, proprio quando si gioca a quello, quando prendo i gol, anche se sono di quelle che dà io non le dà, diciamo, andiamo avanti, quindi sono a un tempo, mi raccomando, molto, molto bene da oggi, tutto quello che noi dobbiamo fare, quel po' che andiamo a fare noi, l'abbiamo fatto, però se sto ne andrà bene o male, molto, moltissimo, dipende da me, e non mi riesco solo a come giocato, che immagino tutti i campioni, e sarà tutto questo alla grande, tutto quello che riguarda la correttenza, l'organizzazione, cerchiamo, soprattutto voi, il Bermansi e i capitani, o comunque quelli che vi rappresentano, ecco, fate il modo, questo percorso, la rena sia, il politizio, che vuol dire che lo cominciamo e non finiremo qua. Grazie anche a chi voi ci ha creduto, voi mi facciamo il piatto, una sulle figlie sotto, quindi, veramente ai tanti ci hanno creduto, vi ringrazio, perché questo vi accorgerete, e se funziona come io credo, poi dopo, ogni estate, che capitano così, nei tempi nostri, uno si lascia il papa. Quando una cosa comincia ad essere... Ma c'è la donazia, capisco di dove lì, per fare l'amore. Esattamente, quindi, ripeto, abbiamo questo grande, grande compito, che non solo è quello di giocare, giocare bene, possibilmente vincere, ma possibilmente anche di creare un po' di eredità. Bene? Grazie. Grazie. Grazie.